Ciao Manco Sì Sì, pronto? Sì Con chi parlo? Con la polizia Polizia? Sì Senta un po' per favore Io mi chiamo Fileni Nazareth Sì Sto cercando mio figlio e mia moglie l'ha chiamato, le ha risposto da un telefonino e mi hanno detto che è stato fermato però non sa se è fermato dalla polizia o dai caribini E questo non lo so neanche io E per saperlo come si va? Eh, non lo so Non lo so perché potrebbe essere ovunque con misteriati dalle caserme dei carabinieri, in questura quindi per ora fare questa ricerca è impossibile Ha detto che era dal tabacchino in Piazza Pagliari in Monda Non lo so questo qua io direi di aspettare che finisce il tutto e magari più tardi venire in questura e chiedere di persona Questa è l'unica cosa che si può fare perché per telefono non... Ma perché è stato in casa fino alle due, fino alle due Eh, lo so, ma io per telefono non glielo riesco a risolvere in questo momento Grazie Prego, salve Grazie, buonasera